rete fogliata americana camo system molto leggera compatta maneggevole da portare in giro facile da utilizzare morbida al tatto si apre si prende la misura con un'esidera l'altezza è 2 metri 40 e poi va al metro lineare questo è il modello bianco per terreni innevati da una parte vediamo che bianco è di tipo diverso leggermente più scuro quindi un bianco diverso da quello dalla parte opposta tendente profligio l'effetto è ottimo ha un ottimo mimetismo e poi la rete è antibatterica antifungo e antimorfa questa è l'altra parte reversibile dove il bianco è più bianco per montarle necessita delle fascette in plastica semplicemente o se uno la vuole lasciare tesa dei cordini come vedete non ha ganci strutture supplementari si fa passare un cordino attraverso le le maglie e si può mettere in qualunque punto nel sito troverete a disposizione i cordini di ogni colore bianco per il bianco verde per la verde e sabbia per la rete sabbia